Quanti anni hai? 27 28 Come si chiama la tua impresa? Herbie Garage Herbie SNC Da quanti anni è nata? Da tre anni Più o meno due anni e mezzo La decisione più importante che hai preso? Di mettermi in proprio Beh, di aprire l'attività assieme a Cristian E quella più difficile? Sempre di mettermi in proprio Quella più difficile è avere un buon rapporto con Cristian nel senso che ha un carattere difficile Il più grosso errore che hai commesso come imprenditore? Ma far saltare qualche motore ogni tanto Ma grossissimi Fino ad ora insomma non ne abbiamo fatti fortunatamente Due cose che decidi solo tu in azienda? Ma di solito le cose sulle macchine da corsa e un'altra No, non ce n'è un'altra Di solito decidiamo abbastanza assieme alle cose Quello che riguarda l'ufficio è per il resto assieme Una cosa che lasci sempre decidere agli altri Sulle cose economiche Il prezzo al mio socio Indica una persona che se non c'era non saresti partito Michele Ianesi che è un altro imprenditore con più esperienza di me Cristian, senza di lui non avrei sicuramente preso una decisione del genere E una persona che se non c'era saresti partito meglio? Il mio ex titolare Nessuno Metti in ordine di importanza queste tre affermazioni Sono partito bene perché avevo l'appoggio delle banche Sono partito bene perché mi sono appoggiato a persone competenti Sono partito bene perché mi ero preparato e ci ho dato dentro Perché ci ho dato dentro le persone competenti e le banche Ci ho dato dentro, appoggio delle banche e persone competenti Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto della tua impresa? 10 Ma di solito non si deve mai essere abbastanza soddisfatti quindi 7 e mezzo Da 1 a 10 quanto la tua impresa assomiglia a quella che immaginavi prima di cominciare? 8 10 Da 1 a 10 quanto ciò che fai assomiglia a quello che volevi fare da ragazzo? 10 10 Quale suggerimento daresti a un giovane che vuole intraprendere la tua stessa strada? Pensaci 10 volte e poi rinuncia Non ne vale la pena Buttati, ma prima preparati bene e completa la tua formazione Vai tranquillo e fai quello che ti detta il cuore Di pensarci e poi di buttarsi Buttati, preparati bene e completa la tua formazione Cosa produce la tua azienda? Ripariamo autovetture e allestiamo autovetture da competizione Autoriparazione in genere e preparazione di vetture da competizione 10 secondi per venderci il tuo prodotto o servizio? Venite da noi perché noi siamo i migliori Abbiamo vinto il prodotto italiano a velocità in montagna l'anno scorso Venite da noi e vi offriremo tutto quello che vi serve per la vostra auto 5 secondi per dirci qual è il tuo cliente ideale? Beh, sicuramente che paga senza fare storie Che non lascia da pagare in 10-15 mesi Che non si lamenta È difficile adesso, non ci sono clienti ideali Quanti dipendenti ha la tua impresa? Niente, siamo io e un socio Nessun dipendente, siamo due soci Qual è il tuo dipendente ideale? Quello che sa fare meglio il suo mestiere? Quello che è sempre in azienda quando c'è bisogno? Quello che propone sempre nuove idee? Quello che sa fare quello che non sai fare tu? Quello che sa fare bene il suo mestiere? Quello che sa fare bene il suo mestiere Tra 5 anni la tua impresa sarà raddoppiata, non esisterà più, uguale a oggi? Tanto più grande Speriamo che migliori e che ci sia ancora Ecco